Io ho voluto presentare questo lavoro oggi nel contesto della National Gallery come una specie di seconda casa di Piero da Francesca. Questa è la casa di Piero da Francesca, ma siamo stati ospiti qui per presentare i lavori che abbiamo completato recentemente sulla Natività, opera che procede da questo spazio, da questa casa, che abbiamo voluto trattare con un'enorme attenzione, con un restauro assolutamente rigoroso e l'abbiamo voluto presentare proprio qui. Per la prima volta in Italia è stato presentato il restauro della Natività di Piero della Francesca ed è stato fatto proprio a Sansepolcro in una delle case del maestro della prospettiva. Tre le opere di Piero ospitate nella grande collezione londinese, il Sammichel Arcangelo, il Battesimo di Cristo e la Natività. Quest'ultima opera, datata 1475, è stata sottoposta ad un restauro dal 2020 al 2022. È stato un restauro che ha affrontato delle questioni molto complesse, perché è un'opera che ha avuto una storia molto travagliata e quindi per restituire al massimo delle possibilità quello che rimane dell'opera di Piero e di far intenderlo come un'opera integrale, non parziale, e fare un lavoro per presentarlo nel contesto anche di una collezione di opere di Piero della Francesca che è quella della National Gallery. Ad occuparsi del delicato intervento, finito al centro di numerose polemiche, la dottoressa Jill Dunkerton, conservatrice dei dipinti dell'Istituto Londinese. Il restauro è stato fatto con dei criteri molto ben definiti e i risultati sono direi molto positivi. Non tutti saranno d'accordo, ma certamente l'opera è stata trattata con enorme attenzione. Ci ha chiarito moltissimo l'idea su un restauro apparentemente molto controverso e poi tutti i restauri sono, come voi sapete, molto controversi. Ogni qualvolta c'è un restauro, c'è un evento, c'è una discussione e per fortuna c'è un confronto. Nel finale, collegato in videoconferenza, anche Vittorio Sgarbi che ha elogiato il lavoro fatto.